Anni fa sono nati, penso agli inizi del 2000, cioè con l'avvento dell'anno 2000, sono nati per esempio allora i primi grandi centri museali ma non conservativi dedicati alla cultura digitale. C'è stato uno straordinario in Giappone che si chiamava ICC, International Communication Center, poi in Europa lo ZKM che è una struttura che sta a Karlsruhe, così come per esempio in questa mappa dei luoghi della cultura digitale internazionale collocherei l'INTS con una festival che è Ars Elettronica, ma il cui festival ha generato un laboratorio di ricerca e sperimentazione di tecnologie avanzate sul digitale, ha generato una scuola, ha generato tutto un indotto produttivo continuativo durante tutto l'anno che poi ha come momento di apertura al mondo e pubblico nel festival, ma che invece comporta tutta un'attività continuativa e esplorativa a livello internazionale continua. E al tempo stesso mi vengono in mente anche altri centri, soprattutto in Canada, dove per esempio più che dei musei sono nati ultimamente dei centri dedicati al mondo digitale, ai digital media, con laboratori, con imprese, ma anche con degli spazi di conoscenza su quelli che sono i risultati, i prodotti di questa cultura digitale, perché diciamocelo, si è anche formato tutto un lavoro di sperimentatori che prima ancora che vengano ad essere riconosciuti dal mercato e quindi virgolette commercializzati, hanno questo ruolo di sperimentazione libera e quindi prototipi che vengono mostrati prima ancora che diventino appunto prodotti commerciali sul mercato. Faccio un esempio, noi conosciamo tutti la Wii, beh io posso dirvi che già a partire agli anni 80 c'erano ricerche di cosiddette interfaccia naturale, particolarmente avanzate, soprattutto di una società canadese che si chiamava Vivid Group, che faceva esattamente ricerche per mettere in comunicazione il proprio movimento, il proprio corpo con delle rappresentazioni virtuali, senza usare casche e niente, esattamente come la Wii. Quello era un lavoro di sperimentazione, di ricerca molto avanzata, che allora poi è stata applicata non a caso come risultato in alcuni musei per creare l'interazione, per esempio dentro i musei della scienza, quindi per permettere, diciamo, soprattutto a un pubblico giovane di interagire con contenuti che non fossero solo quelli dei videogiochi, ma appunto giocando sul tema dell'interazione e del gioco poter invece apprendere, apprendere contenuti un po' più evoluti, eccetera. Allora, la Vivid Group ci ha messo degli anni, ha sviluppato dei prototipi straordinari, la Wii ha fatto tesoro di queste ricerche, probabilmente hanno anche collaborato e poi è diventato un prodotto mainstream. Quindi questi luoghi di cultura digitale, di ricerca e sviluppo, non legati immediatamente a una ricerca e sviluppo di tipo industriale, di mercato, in senso stretto, sono stati un po', diciamo, degli epicentri di fermenti di idee che hanno anticipato spesso quelli che poi sono i risultati diffusi a livello commerciale.